Ok, nel frattempo mangio Minchia la professionalità proprio cazzo Ok, andiamo da... minchia mi è rimasta... ah ok, labbra uscina madonna Allora, andiamo da questa parte, andiamo al successo, tutto questo oggi Perfetto Sperando che nessuno vada all'aereo perché altrimenti cazzo se la vedrà veramente brutta Compa, vattene, please Che se no ti ammazzo Allora, vediamo se c'è andato qualcuno Ok, no, perfetto Va benissimo Saliamo qua Saliamo, saliamo, là ci sto un tizio ma me ne sbatto le palle proprio Cioè, non mi importa Full iron Vabbè Oh Minchia raga Fuori Non ho freccia No, non ho freccia, vieni qua No, ho buttato la rod Dai, sei morto Segui un hit Appunto Fuori un altro Butta questa cosa La c'è andato a fare la spada Aveva preso robe decenti Ma manco per il cazzo Quando mai Allora C'è un tizio dietro Eccolo là Che cazzo è sto qua? Ma ti levi Ah, è il tizio di poco fa Questo Vabbè Yandre 46 Bro, vieni qua Uno Tati narcisso A posto Narcissato GG Dei micchio di frecce A posto Allora Butta qua 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 Boom Ok, no Qua ci sta un altro tizio Che adesso è sulla terraferma Quindi ci andiamo a killare No, dai Non traiertare Vabbè, fra Non c'è tempo da perdere Frecce No È qua la crafting Sì Dai che ce la faccio Prima o poi A posto Butta qua Dove è andato il tizio, raga? Dove è andato? Dove è andato? Dove sei, bro? Please, vieni qua Please, ritorna indietro Che papà ti aspetta E papà e papà sono io XD L'ho visto Almeno penso Non lo so, vediamo Sì Ciao, fra Vieni qua Ok Dai, vieni qua Ritorna Tanto sei morto Almeno che tipo Non ti giri Mi ti viene sbottata Della madonna E mi ammazzi Altrimenti sei morto Per davvero Undizio full iron Bravo Killalo Vabbè, niente Ok, no No, perché Se no sto qua Ammazzo No Ok, mi hai tirato un hit No, no, no Ho buttato l'arco Porco Dio Gare No, no, no Non esiste Non esiste Sta cosa Mi fate sandwich Questo Bravo A posto Mettiamo questo qua Unisci Sì Ok, posso farmi Le frecce Andiamoci a fare Immediatamente Perché non posso Perdere tempo Combino nulla Poi ho buttato l'arco Madonna E il tizio sarebbe Morto da Da tempo Praticamente Mangiamo Ok Devo sia craftare Sia andare al centro A posto A posto E Na 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 Tu 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 Vabbè Basta che se no mi danno il copyright Perché ando troppo bene Ehm Craftare Allora Intanto Ok Sì vabbè volevo far passare un po' di tempo Perché ancora Refilled Ma Siamo in 5 4 Stavo scherzando Non mi raggare No Oh Inizio Ok Ho riavviato la rec Nella speranza che vada tutto bene Posso fare Frecce No Andiamocela a killare Andiamocela Bro Eri qua no Ah ecco Ok Chillatevi Perché non sono intima tanto No Oh mio Dio Geppol Veloce Perfetto Madonna Madonna Ok Ste fight mi stanno piacendo oggi Mi scuso se parlo piano comunque Non so Cioè come vi ho detto già ma dormono da me raga Quindi Perdonatemi Però aumento tutto poi in fase di editing State tranquilli Ok Eh dai Uno Due Ah Geppol Dai bro Devi schettarci di bow Ok Ok Questo game mi è piaciuto E non poco Abbastanza Ottimo Slash S 7 kills GG Mi è piaciuto Nice Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi scuso se ho tagliato Tipo Però mi stava laggando tutto Ok mi hanno interrotto Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso fosse così Invito a lasciare un like Un commento Signori Da Narciso è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti